Bene, buongiorno a tutti. Allora, vi sto per comunicare un'inistitiva molto importante che il collettivo Art Boom ha inteso organizzare per dare il proprio contributo rispetto all'emergenza Covid che è attualmente in atto. Sulla pagina Art Boom di Facebook e sulla pagina Art Boom 2017 di Instagram inizieranno nei prossimi giorni delle aste dove dieci artisti metteranno appunto in vendita le proprie opere. Ci tengo a nominarli uno per uno. Carlotta Sangaletti, Frank Dulocz, Victor Vug, Elena Di Capita, Silvia Cappuccio, Alessia Lenti, Emanuele Muzio, Luce Scaglione, Andrew Tosce e Alice Parodi. Sono dieci artisti che hanno preso parte alle iniziative del collettivo Art Boom nato nel contesto del centro Giovani Chiavari e nei prossimi giorni, crediamo già a partire da domani, inizieranno le donazioni a favore dell'AS4 con lo specifico riferimento all'ospedale di Sestri Levante che è attivo sull'emergenza Covid. Io sono qua con un'opera appunto di Frank Dulocz che ritrae lo scrittore Izzo. Vi raccomandiamo di seguire questa iniziativa, di aiutarci soprattutto a condividerla attraverso i vostri social. Nelle prossime ore saremo sicuramente più precisi sugli orari, sulle aste e su tutto quello che voi dovrete sapere per poter partecipare e far partecipare anche altri vostri amici a questa importante iniziativa. Grazie, ci risentiamo tra poco. Grazie a tutti.